Inizia il 2022 e mi piacerebbe aprire le danze con un po' di ottimismo. Chi come me si occupa e si preoccupa da più di vent'anni di sostenibilità purtroppo sa che non è facile essere ottimisti in un momento del genere. Non è tanto lo stato in cui ci troviamo, è più il come stiamo reagendo allo stato in cui ci troviamo. Avete visto Don't Look Up? Don't Look Up! Ve lo consiglio, ci sono Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e tutto un cast d'eccezione, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, insomma tutte le star di Hollywood. Ieri sera era il film più visto su Netflix in Italia. Vi ricordate Armageddon? 1998. Un asteroide sta per colpire la Terra. Quindi cosa facciamo? Beh, la NASA chiede a Bruce Willis e al suo team di scavatori muscolosi di salvare il mondo raggiungendo il corpo celeste in rotta di collisione con il nostro pianeta e facendolo esplodere con delle bombe atomiche. Un'americanata, insomma. Una storia assurda. 24 anni dopo è uscita la nuova versione di Armageddon con più star di prima e con una storia ancora più assurda apparentemente. Questa volta è una cometa che ci viene addosso. 9 chilometri di diametro. 9 chilometri. 9 chilometri è tanto. Praticamente è il monte Everest che ci arriva addosso dallo spazio. È grande. È grande. Abbastanza grande da causare un'estinzione di massa. Tsunami alti chilometri. Terremoti che aprono voragini mai viste prima e nubi di fuoco che si espandono la velocità del suono in tutte le direzioni fino a volgere l'intero pianeta. Insomma, l'arrivo di questa cometa spazzerà via l'umanità dalla faccia della Terra. Ma siamo sicuri che accadrà? Sì, sicurissimi. I migliori scienziati del mondo hanno fatto i calcoli e sono tutti d'accordo. È sicuro. Ok? Come reagisce il mondo? Nessuno fa nulla. Cioè? In che senso nessuno fa nulla? Beh, c'è chi non ci crede, chi mette in discussione la scienza, chi attacca gli scienziati stessi, chi dà la colpa a chi ha scoperto la cometa e chi si interessa di più della vita privata di cantanti e celebrità piuttosto che della distruzione totale di tutta la vita sulla Terra. Si tratta di un film di fantascienza, ma non stiamo esagerando un po'. Questo è quello che avrei pensato se avessi visto questo film vent'anni fa. Oggi, purtroppo, questo film è un documentario di quello che è successo negli ultimi vent'anni su questo pianeta. La realtà, purtroppo, supera l'immaginazione. Il nostro asteroide si chiama crisi climatica. E la reazione della gente è praticamente identica a quella del film. Sappiamo che c'è, sappiamo che sconvolgerà il pianeta, sappiamo che i suoi effetti saranno abbastanza grandi per causare un'estinzione di massa. Come reagisce il mondo? Eh, nessuno fa nulla. In che senso nessuno fa nulla? Praticamente. C'è chi non ci crede, chi mette in discussione la scienza, chi attacca gli scienziati stessi e chi si interessa di più della vita privata di cantanti e celebrità. Il film doveva essere una satira. Eppure, è praticamente un documentario, è il film più accurato sulla terrificante non risposta della società al collasso del clima che io abbia mai visto. Sono due decenni, più di vent'anni, che faccio tutto il possibile per svegliare la gente. Sono andato al COP15 di Copenhagen, ho scritto decine di articoli, ho rilasciato interviste, ho prodotto video educativi sull'argomento, mi sono confrontato con i migliori scienziati al mondo, dalla NASA a Harvard. Potete vedere i video qua, se siete interessati, siete uno di quelle poche persone a cui effettivamente interessa la scienza, il nostro ambiente, quello che sta succedendo, qui ci sono i video. L'evidenza è schiacciante. La scienza incontrovertibile. Eppure, non basta. Non stiamo trattando la crisi climatica come tale. Continuiamo ogni anno a dare sussidi all'industria dei carboni fossili. 50 miliardi all'anno. 50 miliardi. 50. 5. 0. Miliari. 50. Viviamo in modo completamente insostenibile. Continuiamo a votare gente che non prende seriamente l'ambiente. Continuiamo a dare più importanza a cose futili oppure a cose temporanee che durano poco, contingenti all'immediato. Forse il cambiamento climatico è un problema troppo grande per la specie umana. Forse è troppo complesso. I virus hanno un periodo di incubazione di qualche settimana. Questo lo sapeva già la comunità scientifica. Ma la gente ne ha preso veramente coscienza solo adesso che c'è stata la pandemia. e quindi abbiamo imparato a ragionare a distanza di qualche settimana, magari un mese. Beh, è già progresso, eh? Una volta si ragionava a distanza di 5-10 minuti. Ecco, chi usa TikTok magari ragiona a una distanza di 20-30 secondi. Il cambio del clima ha un periodo di incubazione di qualche decennio. Forse è per questo che non ne abbiamo ancora preso coscienza. A differenza della pandemia che sta dominando tutti i giornali, tutte le notizie, tutte le televisioni, tutte le nostre attività, da due anni la crisi climatica non migliorerà con il tempo e non ci sarà una cura che la risolve miracolosamente. Finché non la trattiamo come una vera crisi, sarà sempre peggio. Ma voglio finire con una nota positiva. Positiva. Perché la speranza è l'ultima a morire. Forse questo 2022 sarà diverso. Forse questo film, questo video, quest'anno così difficile che abbiamo passato, risveglieranno in te e in ognuno di noi qualche cosa e inizieremo finalmente a dare importanza a ciò che importa di più. Lo voglio almeno sperare.